Non sai cosa regalare a Natale? Ti aiuto io con delle idee e un buono sconto. Trovi il buono anche in descrizione con il link. Ottava idea per un regalo di Natale super speciale. Prepariamo a casa il canten. Ma che cos'è questo canten? È un dolce speciale, molto leggero, a base di agar agar, un derivato delle alghe, che ci permette di ottenere consistenze molto diverse, dalla gelatina, alla mousse, alla crema, al budino. Insomma, possiamo sbizzarrirci. E possiamo creare dei dolci molto leggeri che ci permettono di soddisfare il bisogno di dolci senza troppi problemi. Che cosa mettere nel pacco? L'agar agar, innanzitutto, io ho selezionato quello in polvere che trovo molto comodo da dosare. Del succo di mela, anche se volendo si può utilizzare l'acqua per preparare questi dolci, ma il succo di mela ci permette di dolcificare. Se poi vuoi aggiungere un succo di mela veramente speciale, perché vuoi fare un regalo un pochettino più ricercato, ho selezionato anche il succo di mela da mele antiche. Il malto di riso, se dovesse servire a dolcificare un po' di più rispetto alla presenza del succo di mela, ma non è indispensabile. E il sale marino integrale. Non dimenticare di inserire qualche ricetta nel tuo pacco regalo. Ti lascio il link di qualche ricetta sul blog di dolci a base di agar agar, così potrai dare già qualche idea per sperimentare. E se vuoi arricchire questo regalo, aggiungi il mio libro Dolci Buoni e Sani, dove c'è un intero capitolo dedicato proprio ai dolci a base di agar agar. E puoi trovare il classico canteen, quindi la gelatina di frutta, ma anche mousse, budini, creme. Possiamo ottenere consistenze molto diverse. La agar agar ci permette di creare dolci leggeri che soddisfano la voglia di dolce senza caricare troppo il nostro corpo, né scombussolarci con lo zucchero. Qui c'è il buono sconto, ma te lo lascio anche in descrizione insieme al link.